ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare magnesio simul natura simul di dossier riccardo e compagni snc ultimo aggiornamento 25 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti apporto nutrienti a cosa serve magnesio simul è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il tono dell'umore è commercializzato in italia dall'azienda natursimul di dossier riccardo e compagni snc informazioni commerciali titolare natursimul di dossier riccardo e compagni snc concessionario natursimul di dossier riccardo e compagni snc categoria di appartenenza integratori per il tono dell'umore forma farmaceutica soluzione confezioni magnesio simul soluzione analcolica 50 ml indicazioni integratore alimentare a base di magnesio indicato in caso di carenza o aumentato fa bisogno modalità d'uso si consiglia di assumere 20 60 gocce al giorno diluite in un bicchiere d'acqua o altra bevanda descrizione e caratteristiche magnesio cloruro il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento contribuisce inoltre alla normale funzione psicologica e al corretto funzionamento del sistema nervoso coadiuva la corretta funzione muscolare e collabora al mantenimento dell'equilibrio elettrolitico avvertenze non superare la dose massima giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano ingredienti magnesio cloruro acqua apporto nutrienti tenori medi per dose massima giornaliera 60 gocce 5 e 16 g magnesio cloruro 3 e 44 g pari a magnesio 412 mg 109,7 per cento nrv nrv valore nutritivo di riferimento giornaliero adulti regui e 1169 2011 fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato